Situato nel cuore dei Colli Euganei, con una vista mozzafiato, il ristorante Montegrande vi accoglie in occasione del vostro matrimonio regalandovi un'esperienza di gusto unica e la tranquillità di un'organizzazione curata in ogni dettaglio. La struttura dispone di due spaziosi saloni che saranno allestiti con eleganza in occasione del banchetto noziale. Potrete poi continuare i festeggiamenti in una sala di vita per il taglio della torta e per l'intrattenimento musicale. All'esterno la location vi offre la sua magnifica terrazza panoramica, che vi regalerà una gradevole vista sulla campagna e sulle distese di vigneti della zona. Lo staff sarà pronto a seguire passo a passo i preparativi della vostra festa, dedicando speciale attenzione alla cura dei dettagli che contribuiranno a creare la giusta atmosfera e a soddisfare le vostre richieste. I maestri chef del ristorante Montegrande prepareranno un banchetto indimenticabile, all'insegna dei sapori della tradizione rivisitati in chiave moderna. Dall'antipasto alla torta, i vostri ospiti assisteranno alla presentazione di spettacolari opere d'arte della gastronomia, che con il loro gusto raffinato conquisteranno anche i palati più esigenti. La vostra festa di nozze al Monte Grande sarà impeccabile in ogni aspetto.